Avete soprattutto fatto sognare persone come me che ci hanno, però siete ancora attuati, piacete anche ai giovani di adesso, qual è il tuo segreto? Tutti vogliono sapere cosa c'è il segreto, non c'è un segreto, non lo so, essere se stessi innanzitutto, lavorare, crederci, non pullarsi sugli allori, ma lavorare continuamente a migliorarsi e a migliorare, questo è probabilmente il segreto. Avete programmi per il futuro? Programmi sono sempre gli stessi, continuare a lavorare per sviluppare sempre nuove cose, poi dipende, non dipende soltanto da noi, qualsiasi altra cosa possa succedere, noi possiamo soltanto lavorare a fare canzoni e a fare live, questo è il nostro futuro più sicuro. Tutto il resto ben venga. Ho visto che sono vagano e siete quasi di casa, quindi venite spesso qua, penso che vi piaccia tanto e continuerete a venire. Tantissimo, purtroppo veniamo una o due volte massimo l'anno, però vi bisogna accontentarsi perché l'Italia è grande e non solo l'Italia, quindi un po' qua un po' là. Va bene, grazie, complimenti. Grazie, grazie a voi.